L'ordine è quello di TeamSpeak, 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 Marco, Rage, Manuxo, Fazzone, Gianco, Masseo, Mollu, io, quanti siamo qui di noto? Ma come lo sapevi? Neymar! Eh, vabbè, io glielo spoilerato, eh, Gigi, gliel'hai spoilerato, vabbè, Will Smith! Ah, regà, non ne più una, non ne più una, e Iron Man, Robby Downey Junior, eh? Dai, va, Leo! Elvin Diesel, siiii! Vediamo a chi va! LeBron James! Bravo! Sono finiti tutti quelli che conosco! Eh, GG! No, sono finiti! Gordon Ramsay! Eh, adesso sono veramente finiti! Si o no, ragazzi, si o no? Si o no? John Moore! Vino Reeves! Bravo! Bravo! Cyberpunk! Fa duro pensare! Frank! Vabbè! Mamma mia! Mamma mia! Emily Ratajkowski! Che fregna! Ma questo è Kendall Jenner! Ma no, ma questo è Kendall Jenner! No, ma questo è Kendall Jenner! Ma che dici? Ronaldo! Pesce! Senti, ma guarda quella che gli dà! Messi gli dà! Ma è più che la ruxo! Ah, tocca a me Zendaya! Che fregna! Ah, ah! Ariana Grande! Ma Jenki! Ma come è Ariana Grande?! Ma come è Daniel? Sono Joan Depp! Ti cago sul cucino! The rock! La roccia! Broccia-roccia! Però la roccia non vale! Devi dire il nome! Ma si che vale! Eh che! Che tipi! Eh sì! Buonasera! Io già continuo di unice a 1! e te lo swift roger federer dai ragazzi e gg e brace le celebri dal mondo un giocatore di cecchetto gioco di cecchetto e paul walker kylie jenner robert pattinson questo se ti dà un destro guarda che ziria magic mike andrew tatum niente è un po' semplice è rowan hartinson bravo oddio sto matto eh oddio pugno di ferro mike darson un po' tardi no l'ho detto l'ho detto ragazzi da me non devo ancora uscire un po' ma chiasta dai non iniziamo eh ermione granger porco dio emma watson che figa che figa che figa emma buckinson emma stone emma stone amazing spiderman tuo cugino cagli bari cagli bari no ragazzi vale cagli bari bella e zin questa capitan america no ma ecco quello ma ecco quello come no oddio porco dio chi è di questo oh superman 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 eccolo michael jackson sbagliato è michael jordan dai che vale gli escono le caccate che so pure oddio questo qua è quello che fa comedy che è morto ma era quello morto ma no è vivo Arnold Schwarzenegger come? ma che fa? jason christopher mia madre è il jaker ollie la pazza aero mamma mia veramente bruciata jacky chan jacky chan beve champagne con il jacky chan ma che cazzo è? alvaro morata ma che cazzo è? oddio nadia toffa no ragazzi ma che cazzo ma che è? musul no sto ridendo il nasceo non va dentro ma che cazzo è? ma che cazzo è? mi ha fatto ridere quel cugliole hey sandworth madame sand marzo sandworth bruce willis ma che cazzo è? ma che cazzo è? ma che cazzo è? ma chi tocca? and his name is john cena ma il manuzzo cazzo è veramente buco siiii 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 oh siiii roni guarda qui che mi becco eccolo lì ehm vabbè dai Pattinson no Pattinson che cazzo è? che cazzo è? se la faccio gioco vincere Justin Bieberon Justin Bieberon che cazzo è qui tu il tennis Tiana mia madre e adesso è Lanza e adesso eccolo qui e adesso è un riuscito dai non so come si chiama dai fatti i Mackinson fatti i Mackinson chi? vabbè ma chi? io i nomi non ne so mio padre io i nomi non ne so c'è chi lo dì? non sa bravo perché è un meme ogni faccia che c'ha lui è incredibile The Weeknd sabato e domenica dovevi dire sbagliato ho mai sbagliato pure a script ma è MrBeast si si MrBeast è l'anagrafe è MrBeast chi è? chi è? Dragon Marfoy non lo so ma che cazzo è? ma come? ma che cazzo è? ma non lo so eeeh come è quello dell'Apple morto Steve Jobs Stefano Lavori Stefano Lavori Steve Laroi no no è Mike Kelly Matt Wallbeck no raga no vabbè Marshmallow vabbè ma porco il dio dai scusa eh sì vabbè lui è Alberto mi pare no? quello è sfigato di One Direction ma sì ma è quello di coso di Scooby-Dooq ma è stato di scienza se l'ho morto in elicottero ma non è stato di cazzo le cose Lewis Hamilton wow ragazzi è Dua Lipa oddio bravo Wan con le prende un Bruno Di Dio vabbè però si è capito ai calciatori non vale Ma chi è? Lewis Hamilton Il calciatore Non mi avevo mai visto Eminem Il clone di Eminem Oh mio fratello E' uguale l'ho detto io David Beckham E' daglielo un calciatore Ma vabbè E' poi a voi mi ha dato roba figa Eeeh McGregor Come è il nome dove hai dici? McGregor No Connor E' quello è Salvatore Ranzulla Non lo ricordavo Non lo ricordavo ragazzi Ragazzi ma ho una ragina al posto della scella E' un bello andato a morire e cale Eeeh Hemsworth Samson Cioè sapevo che era pelato come a lui Ma mi è venuto in mente a Ranzulla Vi giuro Ma lui è fortissimo E lui è fortissimo Il puggile E' fortissimo Potentissimo Vabbè Vabbè Cosa? Microsoft Microsoft Il signor Microsoft Grazie per i venti Grazie Allora lui è Liam Dei One Direction Come le dice tutte Non fate domande E Black Panther Giusto Eh no Eh lo so Davvero si chiama Chadwick Oddio Jakey Chan Bruce Lee È morto Porco Dio E non me li ricordo Prima parola Ma chi è? Il spacciatore di hashish Alan Walk Il portugino Billy Eilish Belle zinne Belle zinne Belle zinne Belle zinne Elon Musk È Masarone questo Chi risponde Vabbè Questo è fraco Era Josh Era Josh Alessandro Casciolo Alessandro Casciolo Manuxo 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 Troppe sedute GG